un saluto dal ficcanaso oggi mi imbarco nella cosa più difficile della mia vita parlare dei medici dell'emergenza sanitaria territoriale che è la cosa più difficile della trattativa della convenzione di medicina generale l'emergenza sanitaria territoriale è il 118 cioè assistere i pazienti urgenti o pseudotali sul territorio ha un'interfaccia in ospedale che si chiama pronto soccorso molto spesso i pazienti raccolti dal 118 vanno in pronto soccorso insieme a quelli che ci vengono con le proprie gambe o con l'auto del consorte purtroppo molti medici del 118 non hanno contratti stabili molti hanno convenzioni oppure hanno spezzoni di contratti di dipendenza non è la sola differenza che divide i medici dell'emergenza sanitaria territoriale mentre i medici del pronto soccorso sono praticamente tutti di estrazione ospedaliera loro erano di estrazione convenzionata inizialmente si partiva dalla necessità di avere degli specialisti in questa materia però la specialità in emergenza urgenza non c'era ancora quando la specialità c'è stata i numeri sono stati appena sufficienti per maturare delle competenze per i pronti soccorso che andavano spopolandosi cos'è successo sul territorio? erano quasi già tutti convenzionati sono circa un 2000-2500 di convenzionati convenzionati a termine o convenzionati stabilizzati occhio che per stabilizzarsi ci vuole il corso di medicina generale perché le graduatorie sono tali da pretendere questi tre anni di triennio e quindi molti vi entrano adesso in sovrannumero pagandosi la borsa di studio ma chiaramente ai sensi del decreto Calabria dell'anno scorso facendo il test e superandolo come minimo con la sufficienza quindi avendo un minimo di idoneità la regione Sicilia aveva provato a farli entrare in soprannumero e basta c'è stato un ricorso di FINGE e il TAR ha prontamente dato ragione a chi ha fatto ricorso a questo punto entrare in pronto soccorso e roba da medici specializzanti o specialisti entrare a fare il medico del 118 e roba da convenzionati con due corsi alle spalle medicina generale e corso di emergenza sanitaria territoriale è una situazione un po' complicata anche perché questi medici non si pensano più questi del 118 come dei medici a cavallo tra territorio e ospedale ma si pensano un giorno come convenzionati lo SNAMI come sindacato ha sondato al proprio interno e ha deciso che sosterrà la loro aspirazione un giorno di entrare in convenzione quando saranno stanchi di fare i medici del 118 di seguire due, tre, quattro, cinque pazienti per notte che stanno male, vanno stabilizzati eccetera potrebbero traghettarsi verso l'assistenza primaria o la continuità assistenziale e questo significa che già le idee dei sindacati le vedo un po' lontane fra loro anche al tavolo di trattativa della convenzione ma non è tutto ci sono poi le carenze nelle regioni, negli ospedali, nei pronti soccorso cioè mancano già gli specialisti nei piani alti dell'ospedale figurarsi nei pronti soccorso l'ultima volta che l'ho visitato pochi giorni fa ne ho trovato uno allora il problema è come fare in questi casi regioni come Marche, Toscana, Lazio e qualche house dell'Emilia Romagna hanno cooptato i medici del 118 perché hanno un'espertise, perché sanno come fare con i pazienti urgenti naturalmente loro hanno opposto un argomento importante se noi stiamo sul territorio non possiamo stare in ospedale contemporaneamente in Toscana gli è stato risposto dalla USL Firenze che potevano seguire quantomeno stazionando a partire dal pronto soccorso per poi andare con le ambulanze sul territorio con l'auto medica potevano seguirsi qualche codice verde, giallo comunque mandandolo in subordine non appena il computer di bordo avesse detto che c'era un'urgenza sul territorio da espletare i medici tra l'altro nelle Marche gli danno 10 euro per caso seguito e già dicono ma abbiamo delle responsabilità che sono più grandi di noi in Toscana hanno fatto praticamente ricorso quelli dello SNAMI al TAR e l'hanno fatto uno per la convenzionata e uno per la dipendenza a testimoniare che questi medici sono un po' divisi fra loro il TAR gli ha dato ragione ai medici allo SNAMI perché dice cara regione ma tu gliel'hai fatta un po' di linee guida per capire come si disincagliano da pazienti che stanno seguendo in pronto soccorso per essere un minuto in un minuto in ambulanza pronti a sirene spiegate come dicono le linee guida ad hoc e la regione non ha potuto portare tante carte a quanto pare perché il TAR gli ha dato immediatamente ragione ai medici con ordinanze a questo punto qual è il succo di tutta la vicenda che i pronti soccorso restano sguarniti drammaticamente non si può chiedere più al medico del territorio di sopperire in seconda battuta a qualcosa che deve essere fatto tra l'altro bene Veneto e Toscana hanno deciso di formarsi medici del pronto soccorso in casa perché i 200 della specialità di medicina di emergenza urgenza sfornati ogni anno non basta comunque ci vorrà molto tempo perché si raggiungano degli organici con questi ritmi e allora prendono i neolaureati gli fanno un corso reputato un po' troppo veloce reputato un po' troppo veloce per adesso da chi ha fatto ricorso c'è un ricorso di Anao Assomed in Veneto è insufficiente parlando con i medici di Anao mi hanno detto ma guarda che per gestire 3-4 casi in linea di una certa urgenza e possono essere anche codici rossi insieme ci vuole IR, ci vuole il medico formato ci vuole il medico di esperienza e questi se l'esperienza ce l'hanno di corsi di poche ore non fanno al caso giusto gli equipollenti, cardiologi, geriatri, internisti lo fanno di più ma non sono magari proprio loro quelli che cosa succede? che la Simeu, la società italiana di medicina, emergenza, urgenza ha lanciato un appello al governo a mire proroghe che deve essere approvato, convertito in legge entro febbraio è un decreto legge dare la possibilità a chi ha 3 anni di spezzoni, di contratti, di dipendenza o simili con lavoro svolto in pronto soccorso negli ultimi 8 anni di entrare in pronto soccorso di stabilizzarsi di poter partecipare ai concorsi questo è un appello per il governo reputi se questa che è un'idea di buon senso alla luce di quello che si è fatto e che si potrà vedere che è stato fatto sia realmente di fatto un'idea di buon senso un saluto dal ficcanaso e che si potrà vedere che è stato fatto